La riduzione delle emissioni di CO2, l'utilizzo di mezzi alternativi all'auto e il trasferimento a scuola lungo un percorso pedonale ad hoc, questo il senso del progetto Topic Piedibus che ha coinvolto i ragazzi della quarta elementare dell'Istituto Comprensivo 2 di Ortona in collaborazione con le società Metron e Galeno. Presentare ai bambini più piccoli questi problemi sia importantissimo per favorire la crescita in loro dell'idea che lo sviluppo ci deve essere ma deve essere uno sviluppo sostenibile. Devo dire che hanno soprattutto sviluppato quello che era il nostro obiettivo, l'attitudine, la sensibilizzazione proprio al risparmio nell'emissione della CO2. Questo progetto è stato accolto sia dai genitori che dai bambini con molto entusiasmo perché si cerca sempre di sensibilizzare i bambini che poi riportano alle famiglie. Topic è appunto un progetto di ricerca industriale che vuole realizzare un software o dare degli strumenti alle organizzazioni pubbliche e private per la quantificazione delle emissioni di carbonio e successivamente delle misure da attuare per ridurla. Insieme si sono organizzati per recarsi a scuola attraverso questo progetto Piedibus che consisteva appunto nel raggiungere l'edificio scolastico mettendo in atto dei comportamenti ecosostenibili. Mi è piaciuto davvero molto soprattutto per lo scopo che ha, cioè savi guardare la natura che è un dovere di tutti perché è come una nostra casa molto preziosa. Se tutti farebbero più tragitti a piedi o in bici si potrebbe allontanare ancora di più questa fine del mondo fino a farla scomparire. In poche parole piccoli passi, grandi traguardi. A me questo progetto è piaciuto molto perché almeno possiamo stare a contatto con la natura. Bisogna aiutare tutti. E andare più a piedi. Sì. Oltre che con la bicicletta. Con questo progetto possiamo salvare molte piante e lo facciamo soprattutto per il pianeta. Allora.